parlare di cipolla è praticamente impossibile perché cipolla è un personaggio incomprensibile e quindi ho dovuto chiedere di nuovo una psicologa già e allora chiedere aiuto a un professionista per poter parlare di un personaggio fa capire quanto quel personaggio possa essere ben costruito nonostante non ve lo aspettiate cipolla è questo personaggio assolutamente incomprensibile di stevenio universo non farò spoiler in questo video perché non è necessario in alcun modo assolutamente dunque cipolla è un ragazzino che parla in gramlo non è la lingua italiana il gramlo è una lingua universale fatta di suoni e onomatopee è una lingua che veniva molto usata da dario fo ma veniva usata anche in tutta la commedia dell'arte ed è una scelta molto interessante quella di far parlare beh cipolla proprio in gramlo così come suo padre pinna gialla o a coda gialla in base all'episodio in cui lo guardate perché non sono stati molto coerenti con il suo adattamento sono due personaggi particolari primo nessuno capisce se siano umani o no ok nel mondo di stevenio universo ci sono gli umani e nello stesso mondo vive beh qualche essere umano magico che viene chiamato gemma ma non è che ci siano chissà quali incredibili creatura all'interno di stevenio universa e quindi che cos'è cipolla non è un mondo fantasy in cui ci sono i popoli dei nani e cose del genere quindi perché esiste una creatura come cipolla cipolla non parla cipolla non mangia cipolla non cresce perché nel corso della serie passano parecchi anni e per quanto gli altri personaggi tutti gli altri personaggi crescano e cambiano aspetto compreso pili cipolla no cipolla non cambia di una virgola mai poi cipolla oltre a tutto questo ha un comportamento molto particolare rispetto a un bambino medio oltre alla sua violenza sugli animali a tutta una serie di strane attività che fa ci sono tante cose che non quadrano dal fatto che preferisca non parlare con steven il fatto che sappia leggere ma abbia difficoltà con l'arte e disegni il fatto che abbia una stanza segreta in casa sua o che abbia deciso di conservare i capelli di altre persone o ancora peggio che per passare tempo con suo padre si metta a lanciare cibo in mare ci sono parecchie cose in cipolla che non quadrano e non capisci perché le faccia è quasi alienante anzi confonde perché proprio insolito ma non un insolito del tipo fa cose che in genere non si farebbero no 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 qui parliamo di un insolito che è davvero tanto insolito parliamo di un insolito che è oh mio dio che cacchio state facendo quindi perché inserire un personaggio del genere tanto per iniziare c'è nessuna spiegazione per tutta la serie non verrà mai spiegato che cos'è da dove è nato ne altro sappiamo solo che figlio di pinna giallo godagiale vidalia che è fratellastro di panna acida che invece figlio di vidalia ea di marty sappiamo che è più piccolo di steven come età sappiamo dove abita e che gli piacciono i quadri che fa sua madre fine pasta chi gli piace scolpire col cibo chi gli piace rubare roba dalla casa di steven e chi si nasconde negli armadi delle case delle altre persone non sono esattamente informazioni che aiutano a delineare un personaggio alla sua personalità quindi perché inserire un personaggio del genere per fare gag comiche ci sono già abbastanza gag comiche nella serie come il signor smiley che si ritrova sempre ad avere a che fare con cose rotte oppure ametista che ingoia la pizza tutta intera senza masticarla o ci sono gag nella serie quindi perché inserire un personaggio così inquietante che crea così tante domande e a cui non viene data nessuna risposta e qui la genialità non dimenticate che steven e universo un cartone animato lo so che ci sono tutte quante quei discorse per dire che i cartoni animati non sono i bambini ma chi guarda i cartoni animati in tv il sabato mattina i bambini lo so che vi sconvolgerà questa cosa ma sono i bambini a guardare i cartoni animati ovvio non vuol dire che tutti i cartoni animati siano per bambini non vuol dire che un adulto non li possa vedere né altro ma che il pubblico principale di un cartone animato effettivamente sia un bambino non è questo gran colpo di scena e quindi perché tu vuoi mostrare un bambino un bambino del genere perché probabilmente quel bambino cioè il bambino che guarda la serie conoscerà qualche altro bambino un po strano vero avete presente i bambini autistici o i bambini che hanno un qualsiasi altro tipo di problema non non disabilità fisiche perché quello viene già affrontato nella serie con altri personaggi ma che hanno qualcosa di particolare cipollo nello specifico secondo la psicologa con cui ho parlato è sociopatico ha un serio problema di sociopatia ma essendo un bambino non c'è molto da fare devi vedere come si sviloperà più avanti e quello che steven universe insegna è che cipollo è incomprensibile nessuno sa che cosa sia fa un sacco di cose sbagliate ma steven lo accetta semplicemente lo accetta anche steven si sente a disagio quando per esempio entra in casa di vidalia e si ritrova a dover avere a che fare con questa creaturina strana con chi è come animale domestico un serpente tipo un pitone se non sbaglio che steven resta un attimino confuso quando scopre che il suo film preferito è il video di sua madre che lo partorisce ma lo accetta e nel corso della serie per quanto cipollo possa essere considerato divertente viene sempre preso sul serio nessuno si comporta come se cipollo non fosse in grado di capire come se ci dovessimo arrendere all'idea che tanto non c'è niente da fare per cipollo e che non c'è modo di migliorare la situazione è normale effettivamente che cipollo sia cipollo gli viene concesso non viene affrontato il modo in cui sua madre lo tratta come lo deve crescere o come si comporta a scuola ma è molto chiaro che cipollo è membro integrante della cittadina di beach city e che vada trattato come una persona prima di tutto ebbene io penso che all'interno di stevenio universo sia stato inserito cipollo proprio per insegnare i bambini ad abituarsi a questa idea che ci sono dei bambini che sono strani possono essere strani perché sono poveri perché arrivano da una cultura diversa dalla tua perché semplicemente sono fatti così perché hanno un disturbo molto specifico perché sono sociopatici ma tu in quanto altro bambino che deve frequentare cipollo l'unica cosa che puoi fare è accettarlo e anzi vedere il lato comico della sua situazione il lato divertente e la serie infatti ti insegna che è normale sentirsi straniti è normale quando hai a che fare con una persona così inafferrabile avere difficoltà perché cipollo non è come altri personaggi come Pat Paraccia che dice chiaramente che ha un problema ha una disabilità ha qualcosa che effettivamente non funziona chi ha un nome e ha delle regole che limitano le sue difficoltà rispetto al mondo no cipollo è inafferrabile e la serie vuole insegnarti che non serve che tu la chiami sindrome di Asperger sindrome di Down perché tu debba ciattare alla persona non serve che tu sappia che cos'ha devi trattarla degnitosamente lo stesso e cipollo nel suo essere pazzo non rappresenta semplicemente un bambino disabile come ha detto appunto la psicologa quando io le ho parlato in realtà non ci sono caratteristiche di cipollo tipiche di un bambino autistico o qualche altra cosa è semplicemente strano potrebbe essere stato educato così perché sua madre lo ha viziato potrebbe essere fatto così perché suo padre arriva da una cultura che non conosciamo potrebbe essere fatto così perché ha subito un trauma infantile ma non ha importanza perché lui è parte integrante della famiglia e per quanto tutti riconoscano che lui ha affittivamente qualcosa di insolito tu non ti devi comportare come se fosse insolito non è una questione di far finta che non ci sia nulla di strano è una questione di beh una volta che sai che ha qualcosa di strano che puoi farci? Lamentarti? dire che è sbagliato perché non doveva esistere? no lui è lì e una volta che cerchi di far qualcuno cosa che Steven fa in vari episodi non puoi fare altro e l'altro che abitua i bambini all'idea che esistono persone come cipollo e che non ti serve una spiegazione per poterle apprezzare tra tre centenze beh non è una cosa da nulla una cosa bella di Steven New York come cartone animato educativo piuttosto che dire ai bambini una morale del tipo guardate dovete fare questa cosa perché quest'altra è sbagliata insegna ai bambini il ragionamento che sta alla base insegna ai bambini come ragionare e il modo in cui i bambini ragionano rispetto a cipollo può essere un'enorme esperienza per loro per comportarsi meglio con persone reali tu puoi giudicare male cipollo cipollo non è reale è un personaggio immaginario di una serie immaginaria di una serie reale ma la serie è in un mondo immaginario non è reale la serie beh cipollo può essere giudicato perché non è reale e tu come bambino se ti abitui a cipollo che non è reale e affronti tutte le tue difficoltà nell'accettare una persona senza senso con cipollo che non è reale quando avrai a che fare con bambini reali avrai automaticamente già imparato questa cosa e dirai magari oh è come cipollo beh comportiamoci come si comporta Steven con cipollo insegnare ai bambini la base del ragionamento quindi perché cipollo è strano non ha importanza come ti devi comportare come con chiunque altro e non te lo dà come risposta non c'è mai un momento in cui viene affrontata questa questione nella serie se no nel momento in cui stima si fa delle domande molto specifiche su cipollo del tipo perché ha un topolino in mano ah l'ho dato a mangiare perché ora lui ha il topolino in bocca perché non l'ha masticato perché ha un topo in bocca perché è vivo insomma può essere ingestibile è verissimo e la serie lo ammette fa vedere che perla ha enormi difficoltà a interagire con cipollo ma davvero spaventosamente enormi per quanto cipollo si è tutto felice di avere a che fare con perla più o meno ma è per quanto perla si sente a disagio la serie ti insegna che è normale sentire si a disagio il punto è come ti comporti perla in difficoltà perché non sa come comportarsi con lui chiede aiuto a qualcuno che sa come comportarsi tu potresti essere il bambino che come Steven riesce ad accettare cipollo così com'è potresti essere il bambino che ignora cipollo e va bene anche così oppure potresti essere il bambino che ha come perla ha delle difficoltà ad avere a che fare con cipollo e quindi ha bisogno di chiedere aiuto o a un adulto o a qualcuno che riesce ad averci a che fare con sto bambino strano è affascinante è interessante è utile e penso che sia una grandissima opportunità per qualsiasi bambino veda Steven Universe insomma stai insegnando tuo figlio che certe cose si possono fare cioè non rubare o cose del genere cose che fa cipollo vogliono dire accettare una persona come cipollo in quanto persona e non in quanto persona con un disturbo e voi che dite? secondo voi? perché dopo tutto non sono nemmeno sicuro di quello che sto dicendo sto sperando che sia questo il motivo per cui cipollo esiste ma sinceramente anche io avrei apprezzato una spiegazione perché cipollo è così strano che è parecchio disarmante si ha ragione stanno facendo un lavoro ottimo con lui hanno fatto un lavoro ottimo visto che la serie è finita ma metto un tantino a disagio anche me sapete? molto soprattutto in certi episodi